Ciao, bentornato al programma TV di oggi con notizie come. Avete mai visto la casa di Valeria Marini? Sapete dove vive la showgirl che è anche stata protagonista del grande fratello Vippe che a partire da venerdì 30 settembre 2022 vedremo nel cast di tale e quale show? Il suo nido è un sogno ad occhi aperti Dove vive chi ha mai avuto modo di vedere la casa della mitica Valeria Marini? Sembra che l'artista si sia costruita un autentico paradiso come di Mora, sito nel centro storico della capitale Valeria Marini, la regina dello spettacolo italiano.Valeria Marini è da anni una grande, grandissima protagonista del vasto mondo dello spettacolo italiano. Nel corso degli anni si è tuffata in tante esperienze professionali Oltre ad essere stata una delle prime donne del bagaglino, è anche un'attrice e un'imprenditrice Negli ultimi anni è anche diventata grande protagonista di alcuni dei reality show più amati dal pubblico come l'Isola dei Famosi e il grande fratello Vippe, ed ora è anche nel cast di tale e quale show Ma in quanti hanno già visto dove vive? Sapete come è la sua casa? Vive a Roma, in centro storico.Se quella del grande fratello Vippe è diventata la sua casa televisiva, Valeria Marini, nella realtà, vive in una da sogno che rispecchia al 100% la sua personalità di donna raffinata e shit Ma sapete in che città vive? Sebbene la showgirl abbia deciso di fissare la propria dimora a Roma, trascorre molto tempo a Milano Nella capitale vive in un appartamento da sogno che si trova in pieno centro storico, ampio e luminoso, dotato di ogni confort arioso e decisamente molto ma molto elegante Una casa moderna, luminosa e ariosa, con tanto bianco.La casa della Marini si affaccia su una delle piazze di Roma più famose del mondo, ovvero piazza di Spagna dove, nel corso degli anni, sono stati girati anche film e svariate fiction La donna, come fa sapere il portale Viviomi, vive all'ultimo piano di un palazzo storico e molto signorile L'arredamento presenta come colore prevalente il bianco e punta sul moderno Non manca una grande cucina, con mille accessori. In camera da letto troneggia un gigantesco letto matrimoniale con una testiera in tessuto imbottito in cui si alternano i colori bianco, beige e marroncino chiaro In tale stanza vi è anche una piccola ma deliziosa zona beauty che ospita Valeria quando si dedica alla cura di se stessa con tanto amore e infinito rispetto Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie Ciao e ci vediamo nei prossimi video Grazie per aver guardato il video Grazie per aver guardato il video Grazie per aver guardato il video